A pochi giorni dall'inizio delle scuole il comune di Vigonza alleggerisce i costi a carico delle famiglie contenendo il costo del buono pasto. In base all'adeguamento all'indice Istat ogni bambino avrebbe dovuto pagare 5 euro e 73 centesimi a pasto. Grazie all'applicazione di alcuni risparmi derivati da economie e una costruzione della gara d'appalto, ha spiegato il vice sindaco Filippo Pastore, fino al 31 dicembre il costo sarà di 5 euro e 40 centesimi con un contenimento pari al 47% dell'aumento. Confermate tutte le agevolazioni sulla base del reddito ISEE in caso di iscrizione di più figli e la riduzione del 100% per i portatori di handicap.